300 CV, scatto da 0 a 100 in appena 5 secondi, un peso-piuma per la categoria ed un motore 2000 TFSI che la catapulta sulla soglia dei 250 km orari. La nuova Audi S3 Berlina ha messo non solo la coda, ma anche le ali. Eh sì perché qui il bagaglio tecnico e le forme muscolose ed eleganti della tre-sedan vengono estremizzate dalla sportività che viene accentuata dalla presenza di particolari in tinta alluminio, ruote da 18 pollici e doppi scarichi posteriori. Disponibile sia in versione con cambio meccanico a 6 marce che con cambio S-tronic a doppia frizione, sempre a 6 marce, che migliora sia i consumi che le prestazioni, la S3 Sedan è un mix vincente tra prestazioni, piacere di guida e comfort. Una sportiva senza eccessi, dinamica e godibile su strada e come sempre accompagnata da una tenuta di strada impeccabile, garantita dalla trazione integrale permanente 4 di serie, che rimane un vantaggio decisivo in termini di trazione. Fa parte dell'equipaggiamento di serie l'Audi Drive Select, il dispositivo elettronico che muta il setup della macchina secondo lo schema selezionato, comfort, auto, dynamic, efficiency o individual. Anche i sedili sportivi, dotati di seduta allungabile estraendo il cuscino, rappresentano un ulteriore accento sportivo all'interno di un ambiente molto curato, dedicata a chi vuol mostrare i muscoli ma senza apparire.